Grazie, intervento decisamente accalorato e convinto. Grazie a tutti, mi rendo conto che avete già ascoltato tantissimi argomenti e tanti contenuti, arrivando un po' alla fine cercherò di essere sintetico e possibilmente efficace. Gli antichi romani dicevano che le persone riescono a ricordare al massimo sette concetti, sette punti, tant'è che sette colli, sette re, sette nani. Noi siamo un po' meno bravi e a volte i sette nani non li ricordiamo tutti, ma fino a sette ci si può arrivare facilmente. Quindi ho sviluppato il mio intervento su sette punti. Non ho slide, però spero di riuscire a farvi capire ogni punto e la sua rilevanza. Partiamo dal più importante per me, che è un discorso di definizione. Visto che io parlerò di sostenibilità, insegno questo a Roma 3, anzi il mio corso ha un nome ancora più complesso. Si chiama marketing, innovazione e sostenibilità. Ho messo tre cose insieme che in genere erano molto separate e invece da diversi anni ho lavorato per far capire che senza mercato è inutile agire. La sostenibilità si raggiunge con l'innovazione e non semplicemente con i buoni propositi. Perché ho messo insieme concetti un po' diversi e ho tratto alcune conclusioni. Effettivamente sto lavorando su questi problemi con aziende varie e sono arrivato appunto a questi sette punti che vorrei condividere con voi. Allora il primo punto, dicevo, il più importante è capire cosa vuol dire sostenibilità. Può sembrare banale ma in realtà è una traduzione dall'inglese sustainability che in italiano non vuol dire la stessa cosa. Faccio subito un esempio. Se io vi chiedessi come va la vostra famiglia e voi dite è sostenibile, probabilmente la situazione non è così positiva. Quindi sostenibile noi se pensate lo intendiamo come una cosa sopportabile. Non è assolutamente questo il significato. I francesi, che come sapete sono più bravi di noi nel rispettare la loro lingua, non hanno tradotto sostenibile con la stessa parola in inglese ma hanno detto durable, durevole. Infatti parlano di development durable. Quindi primo dei miei sette punti è sostenibilità, vuol dire durare. Vuol dire fare in modo che tra 30 anni siamo ancora qui a fare l'incontro con Fida e che le nostre aziende ancora stanno andando molto bene, che la civiltà funziona e il progresso va avanti. Quindi per durare bisogna evitare di fare errori. E quindi passo al secondo punto. Quali sono le cose che potrebbero impedirci di durare? Cosa potrebbe spingere le nostre aziende a non esistere più tra 7 anni o tra 10 o tra 15? Beh diciamo sono tre categorie di argomenti. Il primo, stiamo sempre molto attenti, che è la parte economica. Quindi la sostenibilità deve essere economica. Quindi se i conti non tornano possiamo fare tutti i più bei progetti della terra ma l'azienda chiude comunque. E questo siccome è stato ricordato anche dai relatori prima di me, ci tengo anche io venendo da una fauta di economia a ricordarlo. Il secondo punto è il sociale. Cioè non possiamo fare cose che danneggiano il mondo. Il mondo intendo dire le altre persone e questo è altrettanto importante. Sappiamo che le aziende che hanno fatto degli errori, si è parlato di Thyssen ma potremmo parlare anche di altre aziende che hanno un pochino tenuto sotto gamba il problema per esempio delle discriminazioni. Hanno fatto dichiarazioni poco corrette sull'ugualianza di genere. Insomma tanti aspetti sociali possono danneggiare fortemente l'azienda. Senza arrivare a usare i bambini per cucire i palloni come si faceva anni fa. Però sicuramente questo è un tema importante. Il terzo rischio è quello ambientale. Ecco sul quale oggi siamo molto attenti. Quindi in realtà non ci stiamo preoccupando di qualcosa di cui non ci preoccupavamo prima. Cioè la durabilità o sostenibilità. E' semplicemente che abbiamo capito oggi che il tema dell'ambiente ahimè può essere uno di quegli elementi che ci frenano lo sviluppo delle aziende. Cioè possiamo fare delle cose che in qualche modo ci danneggiano o comunque impediscono la nostra sopravvivenza. Può nascere appunto una legge che ci vieta di sprecare acqua perché l'acqua è diventata un problema. Anzi anticipo che sarà sicuramente il problema di cui parleremo di più. Eccetera eccetera. Di esempi ne abbiamo tantissimi. Qual è il problema di oggi legato alla sostenibilità ambientale? Cioè a durare malgrado i temi ambientali. E che sono temi molto complessi. Alla fine far funzionare un'azienda dal punto di vista economico tutto sommato lo si può imparare e le regole sono più o meno quelle. Fare un'azienda che socialmente non faccia danni adesso non voglio dire che sia semplice ma il cosa fare tutto sommato lo sappiamo tutti. Cioè non danneggiare il prossimo fondamentalmente e possibilmente essere inclusivi e redistribuire i nostri vantaggi. Quando si parla invece di ambiente le cose si complicano tantissimo. Cosa vuol dire non danneggiare l'ambiente? E soprattutto come migliorare la nostra performance ambientale? Perché si complica? Si complica perché esistono delle attività che sono contraddittorie rispetto ad altre. Vi posso fare dei piccoli esempi ma insomma sono classici. È chiaro che uno può dire non più plastica usiamo il vetro, però se si è il vetro c'è degli altri danni. Pensiamo al trasporto del vetro. Quindi è la CO2 che si produce. È vero la plastica finisce più facilmente nei mari che l'acqua ma che il vetro, però il vetro si trasporta con molto maggiore difficoltà. Quindi se per caso il nostro valore fosse la CO2 e quindi limitare il riscaldamento globale se si decidesse, e questa è una decisione, che quello è l'obiettivo principale da quel punto di vista per esempio la plastica potrebbe essere meglio del vetro. E potremmo fare tanti altri esempi. Giusto per citarvi potrebbe essere anche il tema del benessere animale. Qualcuno nel campo food dà molta rilevanza al benessere animale. Nel campo del benessere animale sappiamo che se le galline stanno per i pascoli invece che in gabbia stanno meglio, è vero. Però in termini di CO2 quello è peggio che averle in gabbia. Ora qualcuno potrebbe dire meglio avere più CO2 ma galline felici. Insomma esistono diversi trade-off molto rilevanti che non sono così ovvi. Quindi mentre nelle altre due variabili in qualche modo sappiamo qual è la strada, nel mondo dell'ambiente dobbiamo prendere delle decisioni e anche quando abbiamo preso delle decisioni dobbiamo studiare la soluzione che non è semplice. E vengo al terzo punto. Il terzo punto è che a problemi complessi occorrono, ahimè, soluzioni complesse. È molto difficile che si riesca a trovare la soluzione semplice che risolve il problema ambientale. È molto difficile. Vogliamo esempi recenti. A un certo punto si è parlato tantissimo di Ollo di Palma. Alcuno di voi sicuramente è stato coinvolto. L'Ollo di Palma cosa voleva dire? Quando è stato detto evitiamo l'Ollo di Palma o vietiamo, in realtà non è stato vietato, ma insomma il mercato sostanzialmente l'ha escluso, non è che abbia risolto problemi. Sappiamo che la necessità di avere altri oli vegetali che peraltro sono meno produttivi del Palma ha provocato magari deforestazioni in altri paesi. Insomma abbiamo spostato un problema. Quindi dire togliamo una cosa o prendiamocela con un elemento del sistema e così abbiamo risolto, non funziona. A meno quei problemi complessi purtroppo non funziona mai. Dimagrire è un problema complesso, difficilmente si dimagrisce facendo una sola cosa. In genere ci dicono di farne tante. Quindi c'è un impegno maggiore. E questo diciamo che è abbastanza di buonsenso, è facile da ricordare. Quello che però non è così ovvio è che, ahimè, le persone amano le risposte semplici. Le persone amano pensare di aver capito con una risposta semplice, con un elemento semplice. Non solo le persone ma anche i media. Poter dare la colpa ad un attore del sistema e dire la colpa è sua è facile. I politici hanno facilità di fare un discorso prendendosela con un problema. Cioè noi sappiamo che il riscaldamento globale o la crisi climatica, come meglio definirla, dipende da un'infinità di ragioni e purtroppo avrà un'infinità di effetti. Pensare che tutto sia risolvibile con una, come direbbero gli americani, silver bullet o una sola intervento, evidentemente è preoccupante. Per due motivi. Il primo perché lascia l'impressione che stiamo risolvendo il problema. Il secondo perché talvolta lo potremmo addirittura peggiorare. Una cosa assurda. Pensate che sull'olio di palma Greenpeace e il WWF hanno fatto dichiarazioni se lo evitate del tutto è peggio per l'ambiente. Che è una cosa assurda. Ovviamente non si potevano lasciare le cose come stavano. Occorreva gestire bene il tema, appunto in maniera più complessa, creare un olio di palma sostenibile, ma eliminarlo del tutto non era la scelta giusta. Per fortuna i media e le persone si dimenticano per cui oggi stiamo evidentemente su altre emergenze. Sarà quella della plastica, arriverà quella dell'acqua, c'è il glifosato. Cioè ce ne sono tanti ma sono tutti elementi di un sistema complesso che come dicevo piace ai media e alle persone. Anche per un punto ulteriore, siamo arrivati al quinto punto, che abbiamo una, non so l'avete visto forse spesso su internet o su Facebook, c'è una curva divertente, si chiama effetto Koenig-Kruger, che talvolta quando noi sappiamo poco di un problema, siamo quasi più sicuri di noi che se ne sappiamo molto. Se noi il problema lo scopriamo, lo studiamo veramente a fondo, le nostre certezze si riducono. Quindi risolvere il problema dell'ambiente, sapendo poco di ambiente, ci sembra più facile e ci tranquillizza rispetto ad andarsi a studiare realmente effetti e contro effetti di tutte le diverse azioni. Naturalmente il mondo delle fake news vive di questo, perché la fake news cos'è? Una notizia semplice, che apparentemente risolve un problema o trova un colpevole del problema, e la gente non chiede di meglio che sapere che c'è un colpevole e finalmente tolto quello avremo risolto i nostri problemi. Mio figlio non mangia più l'olio di palma con i biscotti, quindi finalmente potrà dimagrire. Sappiamo che non è così. Come anche togliere, parliamo di packaging, plastica o altro, che sicuramente va gestito, però non è quello l'unico problema e soprattutto non è risolvibile il metaproblema se soltanto elimini un ingrediente dal sistema complessivo. E veniamo al sesto punto, quindi abbiamo quasi finito. Il sesto punto quindi è dire, bene, allora, se di volta in volta noi dobbiamo studiare le cose, perché purtroppo occorre studiare, e questo richiede tempo, cosa che non piace né ai politici, forse né alle persone, ma richiede impegno, il modo migliore per studiarle è immaginare una formula, una formula semplicissima che tutti noi abbiamo in testa, che è la formula del valore. Da cosa è dato il valore di un prodotto, di un sistema, di un'industria, di un'azienda? Il valore è dato dai benefici sui costi. Questo non serve andare a studiare economia, si sa. Benefici sopra costi. Quindi come si fa ad aumentare il valore? Aumentando i benefici di quello che stiamo facendo o riducendone i costi? Con il tema della sostenibilità ambientale, ovviamente i costi non sono più, ahimè, solo quelli economici, perché fino a quello tutti erano bravi a fare i loro bilanci, ma ci sono anche le cosiddette esternalità negative. Quindi il valore di un prodotto, di una materia prima o di un'azienda sono date da benefici sopra e sotto costi più esternalità negative. Praticamente l'impatto negativo che quel prodotto produce. Quindi come fare a aumentare il valore? E qui veniamo un po' alle conclusioni. Si può ridurre le esternalità negative, cioè fare in modo che sia riciclabile, che sia fatto in maniera tale che non impatti sull'ambiente, che sia recuperato, che è una cosa assolutamente importante del quale stiamo parlando, ma se quell'intervento sulla riduzione delle esternalità negative va a incidere molto fortemente sui costi, aumentandoli, o riduce fortemente i benefici, il valore rimane lo stesso. O addirittura può peggiorare. Cioè fare un prodotto che tecnicamente ha minori esternalità negative, ma il mercato non lo accetta e quindi devo magari anche soltanto diminuirne il prezzo o mi costa di più renderlo appetibile. Allora è chiaro che la formula del valore non sta funzionando. Ecco, questo tipo di approccio che non credo sia complicato, cioè capire che ogni cosa che fai deve essere misurata in termini di valore e che talvolta certe azioni apparentemente riducono un effetto negativo, ma siccome contemporaneamente riducono un effetto positivo, mi interessava per esempio quello che si diceva prima sulle vending machine che potrebbero avere un effetto educativo e sociale, francamente non ci ho mai pensato, ma la cosa mi sembra molto convincente. Ecco, quell'effetto positivo sta nel numeratore del rapporto, siete d'accordo? Quindi se quello lo misuriamo, quello aumenta il valore. Ovviamente va fatto, perché ad oggi vending machine educative non ne ho viste tante, forse qualcuna ha dei prodotti più interessanti, ma insomma generalmente generalmente non hanno avuto ancora quell'approccio. Una vending machine che mi piace molto è quella che fa la spremuta di arancia in diretta, non so se rientra nella vostra categoria, ma quello sicuramente ha un effetto positivo, prendere frutta fresca in maniera automatica. Detto ciò, la soluzione qual è? E arrivo al settimo e ultimo punto, la soluzione è che bisogna studiare di volta in volta qual è il valore delle nostre offerte, le nostre soluzioni, cioè non possiamo prendere trasversalmente un intervento e considerarlo buono a prescindere, bisogna di volta in volta studiare le situazioni e trovare quelle migliori per la specifica situazione e naturalmente comunicarlo. Comunicare una soluzione complessa è più difficile che comunicare una formuletta facile, però è compito vostro come aziende e chiaramente della politica nell'appoggiarvi a fare in modo che tutto il sistema evolva nella maniera corretta, ma per essere sostenibili occorre impegnarsi e l'impegno spesso è anche nel valutare bene le differenze, le diverse soluzioni, le alternative e non illudersi che con un solo click o con una sola decisione, una sola norma abbiamo risolto tutto perché purtroppo questo non è la vera situazione. Grazie. Grazie, grazie al professor Podesi. Allora cerchiamo qualche soluzione appunto da chi conosce le questioni a fondo, quindi qualche proposta di soluzione. Ernesto Pironi è presidente del gruppo imprese e servizi e commercializzazione di Confidot che è presidente Rivenditalia. Prego. Buongiorno a tutti e benvenuti. Ho il piacere di presentarvi il progetto Rivending e seguendo le parole del professore forse per una fase della distribuzione automatica diventiamo un educational con i numeri che abbiamo visto chiaramente le caratteristiche ci sono perché 25 milioni di abitanti passano davanti a noi e lo fanno quotidianamente su consumi che sono tipicamente dell'italiano cioè il consumo di caffè. Ora, un altro punto che il professore ha toccato è quello di non danneggiare l'ambiente. quando l'associazione si è trovata ad affrontare il tema del plastic free abbiamo valutato che il plastic free deve essere sostenibile e deve essere per le generazioni presenti e per le generazioni future. Quindi in vari materiali che poi oggi noi stiamo utilizzando della carta e del legno che hanno produzioni chiaramente naturali ma non hanno una riciclabilità alta come quella della plastica ci hanno un po' sconcertato e ci hanno spinto ad analizzare nuove tecnologie che sono i metodi e quelli del riciclo. Oggi se noi pensiamo l'italiano ha queste abitudini cioè beve l'espresso e da noi pesa ben il 70% dei volumi totali. Lo fa in due modi lo fa a casa e lo fa principalmente in piedi perché l'Italia è l'unico paese che entra in un bar e ordina il caffè in piedi. Quindi se voi andate all'estero ci siamo trovati più di una volta scusate ma non è partito un video ci siamo trovati più di una volta a avvicinarci a un bancone e non riusciamo ad avere la nostra abitudine tipica nostra quindi beviamo e consumiamo. Lo stesso lo facciamo davanti a un distributore automatico quindi abbiamo un consumo isterico per cui beviamo questo shot e poi buttiamo subito. Cosa succede? Che se riusciamo a cogliere quest'attimo e lo stiamo facendo col contenitore rivending andiamo a portare il consumatore a fare un gesto in un momento ben preciso quindi consuma e il rifiuto lo metti in un modo corretto questo è l'educational del distributore automatico cioè affiancare il contenitore rivending e siamo partiti proprio dal bicchiere per questo motivo perché il consumo viene fatto in quel luogo e non viene portato via come per esempio la merendina la bottiglietta e quant'altro e da lì partiamo con un processo di riciclo e riportiamo il bicchiere ad essere bicchiere tutta questa intuizione nasce chiaramente dalla collaborazione con Corepla Flow e Confida e sta portando dei risultati eccezionali in alcuni test pilota che abbiamo fatto come funziona? Abbiamo in rivending due fasi la fase 1 andremo a diffondere il più alto numero di contenitori per cui avremo una fase che noi definiamo educational puoi consumare con la plastica e far ridiventare plastica quello che hai utilizzato abbiamo già una catena di raccolta che Corepla gestisce in tutta Italia e che è la differenziata quindi nella fase 1 il contenitore avrà il sacchetto corretto il riciclo è quello di qualsiasi altro materiale della plastica che non deve essere pulito ma deve essere svuotato poi l'ingegner Protopapa magari ci spiegherà anche questi piccoli dettagli quando poi avremo raggiunto un quintalaggio corretto per ogni cap che andremo a registrare grazie alle collaborazioni dei gestori potremo cambiare il sacchetto all'interno del contenitore ed avere un sacchetto mirato in questa fase non andremo più a raccogliere con la municipalizzata il sacchetto corrente ma avremo un ciclo specifico e salteremo alcune fasi che vedrete qua sotto che sono la selezione e il centro di pretrattamento quindi andremo direttamente al riciclatore con il prodotto perché è pronto per essere lavorato questo processo ci servirà per almeno due anni per certificarlo in alimentare per fare da bicchiere a bicchiere quindi nell'arco dei prossimi due anni riusciremo a riprodurre un bicchiere al 100% da plastica riciclata chiaramente l'educational è anche sui social stiamo facendo un grande investimento perché poi la gente è attenta e dovrà richiedere di avere questo tipo di attività e engagement sul posto di lavoro con il contenitore e la seconda fase la faremo con il PET quindi partiremo già entro fine dell'anno per cui nel mese prossimo con il villaggio ENI e andremo a fare anche un'attività di riciclo il più possibile per il PET i contenitori che vedete sono questi cioè ci possono essere il contenitore oggi in uso di rivending con tutto un crowner che spiega ricicla che lui è sotto la fase un contenitore per quanto riguarda il PET e un riciclatore il riciclatore l'abbiamo bisogno perché il consumo dell'acqua non avviene come il caffè nello stesso punto cioè il rifiuto non viene scartato nel punto di consumo ma viene portato via quindi in alcune fasi noi dovremo attivarci con delle cauzioni e questo porterà sicuramente una gestione della chiavetta e del rimborso del consumo dell'acqua ma avremo sicuramente un engagement perché ci riporteranno il vuoto ora i numeri sono molto importanti perché noi vogliamo raggiungere già nel 2020 ben 2 milioni di italiani con la fase 1 e attivare la fase 2 per il PET per poi procedere anche con il resto il mondo del riciclato è ciò che salva l'ambiente oggi e lo protegge per generazioni future salvaguardiamo la leadership italiana del monouso e sicuramente abbiamo prodotti che sono certificati di qualità e ci permettono di avere prodotti che noi distribuiamo alimentari garantiti e protetti ora cosa chiediamo e quali sono le attività che Confida farà nel breve futuro uno raggiungere l'obiettivo nel glutinio finanziario e ottenere agevolazioni sugli investimenti dei punti di raccolta quindi noi abbiamo un costo in più per punto vendita e abbiamo bisogno di sgravi fiscali che sia dal contenitore fino al compattatore questo è fondamentale la seconda cosa è ottenere la detrazione della tassa sulla plastica riciclata proporzionalmente per cui se un contenitore ha il 30% di plastica riciclata quella parte lì sarà esente da tassa la terza che abbiamo bisogno per il PET è che si cancelli il limite al 50% di materiale riciclato perché l'Italia è l'unico stato in Europa che ha messo un limite del 50% nel riciclato delle bottiglie di plastica non si è ben capito come mai ma per esempio in Germania ci sono già produttori che hanno il 100% di plastica riciclata all'interno dei contenitori quindi io vi ringrazio del tempo l'execution è la fase più importante l'education ce l'abbiamo perché andiamo a cogliere un'abitudine degli italiani che fanno quotidianamente e da qua partiamo per un lavoro di squadra per difendere quello che è l'attacco del nostro settore grazie grazie tanto direi che queste prime risposte appunto sono proporzionate a livello di complessità del problema quindi rispondono a quello che era stato teorizzato bene da Pratesi allora Antonio Portopappa è direttore del sviluppo del Corepa del Corepa abbiamo appena parlato e quindi sapete benissimo di cosa stiamo dove vogliamo andare a parare prego bene buon pomeriggio a tutti l'ora di pranzo ormai si sta avvicinando arrivo dopo però siamo perfetti con i tempi sì sì siamo nei tempi la presentazione è abbastanza corposa cercherò di andare veloce poi la metteremo a disposizione successivamente quindi chiunque vorrà poi magari intervenire successivamente su quello che presenterò è benvenuto e nell'ultima slide vi ho anche inserito il link su cui andare a cercare le fonti in modo che possiate avere anche un ulteriore dettaglio nel caso foste curiosi di vedere da dove tiriamo fuori i dati se possiamo partire con la presentazione non so se devo essere io a girare eccomi qua allora la prima cosa è il plastic free allora il plastic free è un qualcosa che abbiamo già visto abbiamo vissuto fino a circa una cinquantina anni fa ed eravamo qua quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole questo può essere uno scenario che ci può interessare e tornare a quelli che era la realtà di cinquanta sessant'anni fa io credo che nella vita di oggi probabilmente questo scenario non farà comodo a quasi nessuno tranne pochi quindi non è certamente il plastic free la soluzione a quelli che sono i problemi che abbiamo nel settore delle plastiche plastiche vuol dire tanti materiali ce ne sono almeno cento centocinquanta polimeri diversi che possono essere utilizzati ci si concentra probabilmente su cinque o sei che sono quelli più utilizzati nel settore degli imballaggi ma poi si possono declinare in talmente tanti modi che parlare di plastica non ha molto senso infatti molto spesso io dico che la plastica non esiste ma bisognerebbe dire le plastiche come fanno gli inglesi che la S la tengono attaccata e la chiamano plastics questo perché perché ovviamente l'utilizzo delle plastiche nel mondo si è sviluppato tantissimo in tutti i settori che ci circondano abbiamo oggi un consumo che nel 2018 è stato di circa 360 milioni di tonnellate tenete a mente questo numero arrotondatelo a 400 se volete giusto per avere un ordine di grandezza ci arriveremo probabilmente tra due o tre anni perché la crescita del consumo di materie plastiche nel mondo è all'incirca del 3,5% quindi in due o tre anni si supereranno le 400 milioni di tonnellate di plastica e perché vi do questo numero? Perché poi dobbiamo confrontarci con quelli che sono i cosiddetti materiali alternativi quelli che ci vengono proposti come la soluzione di tutti i problemi e probabilmente la famosa soluzione semplice a un problema complesso ed è quello che sentivamo dire anche dal professore prima quindi cominciamo a fare un po' di chiarezza su quelle che sono le alternative che ci vengono proposte le bioplastiche ne avete sentito parlare tantissimo ce ne sono sostanzialmente di tre tipi una una famiglia che è quella delle famose biodegradabili compostabili una che è di origine bio ma non è biodegradabile compostabile poi ce n'è una fascia che è quella che vedete in mezzo che si sovrappone e che di fatto può essere sia l'una che l'altra cosa qui abbiamo provato a riassumere prendendo questo grafico dove si intersecano le varie famiglie le sigle sono abbastanza complesse per chi ha voglia su google trova tutto però quello che deve rimanere come concetto è che nell'ambito delle bioplastiche ci sono sostanzialmente due grandi gruppi quelli che hanno delle materie prime di origine rinnovabile ma che sono identiche alle altre e che quindi se io ottengo dalle materie prime come l'etilene partendo dallo zucchero di canna e faccio etanolo parto da una materia prima rinnovabile ma la materia finale il prodotto il polimero finale che ottengo è esattamente identico a quello che si ottiene partendo da gas o da petrolio quindi di fatto non è né biodegradabile né compostabile c'è un'altra famiglia che invece deriva da materie prime rinnovabili ed è biodegradabile compostabile ma le quantità sono estremamente limitate a livello mondiale come dimensione di mercato e c'è quella fascia che dicevo prima di sovrapposizione che vedete anche in questo grafico i numeri ricordiamo il consumo mondo 400 milioni di tonnellate il settore degli imballaggi ne consuma circa il 40% quindi parliamo di 150 160 milioni di tonnellate all'anno di consumo la capacità mondiale di produzione di bioplastiche sia quelle di origine rinnovabile e compostabili sia quelle di origine rinnovabile ma non compostabili in tutto supera di poco i 2 milioni di tonnellate a livello globale quindi vuol dire che di fatto questa non è una soluzione percorribile per quello che è il nostro mondo il settore degli imballaggi non può fare affidamento su un prodotto la cui disponibilità è un ventesimo di quella che è la domanda totale allora dobbiamo pensare a quelli che potrebbero essere eventualmente altre soluzioni tenendo conto che comunque anche con la crescita ipotizzata di produzione dei prossimi anni rimarremo sempre al di sotto di quello che è anche l'utilizzo minimo soltanto in Italia in Italia consumiamo 2 milioni e mezzo di tonnellate di materie plastiche per produrre imballaggi la quantità totale prevista nel 2023 e di 1 milione e 300 mila facciamo anche che si sono sbagliati e che arrivino a 2 milioni di tonnellate non basterebbero neanche per il fabbisogno italiano quindi per tornare al discorso della soluzione semplice al problema complesso le bioplastiche sono sicuramente un ingrediente fondamentale che serve utile ci sono alcuni settori dove è assolutamente insostituibile come quello della gestione di frazione organica quando si fa la raccolta differenziata dell'umido perfettamente allineata con quelle che sono le necessità anche del consumatore tanti altri settori dove invece ha poco senso bene l'altra cosa su cui vorrei farvi riflettere è la definizione di monouso anche questa viene abusata il monouso tutti gli imballaggi sono monouso per definizione cioè se io ho una cosa imballata una volta che ho tolto il prodotto dall'imballo non è più riutilizzabile tranne i casi rarissimi ma allora vogliamo attaccare il monouso vogliamo attaccare gli imballaggi e qui nasce la diatriba per cui anche a livello governativo invece di fare un decreto su quella che è la plastica monouso che è quello che la commissione direttiva e il Parlamento europeo hanno indicato come l'area su cui intervenire noi siamo andati sul monouso inteso come imballaggi e qui si apre un mondo che ovviamente ci porta lontano perché? perché quando parliamo di imballaggio non parliamo di un prodotto monouso nel senso stretto del termine ma parliamo di un prodotto tecnico che fa tutta una serie di cose che voi conoscete benissimo e che qui abbiamo provato a riassumere quindi dalla comunicazione alla protezione al trasporto e tutto il resto questo non è monouso questo è imballaggio che è tutta un'altra cosa e non è necessariamente in plastica perché ovviamente può essere d'alluminio può essere di legno può essere di carta può essere d'acciaio e così via quindi non è questo l'obiettivo con cui la commissione direttiva la commissione europea scusate e il parlamento europeo miravano quando hanno poi emesso la famosa direttiva però c'è ovviamente un discorso di pancia ecco perché poi si va ad attaccare probabilmente un prodotto perché la percezione che ha il consumatore dell'imballaggio è una percezione che diventa immediatamente negativa quando il prodotto finisce di fare il suo lavoro cioè se io ho una bottiglietta di plastica in mano finché c'è l'acqua dentro è un prodotto importantissimo non appena si è svuotata la posso buttare perché il suo valore è prossimo allo zero questa è la percezione che ha il consumatore dell'imballaggio ed ovviamente da qui poi nascono tutti quanti i problemi di comportamento che sappiamo portare anche al problema del marine liter ma soprattutto quello che è fondamentale quello che diceva prima anche la collega quando si parla di imballaggi quando si parla di imballaggi in plastica siamo sicuri che stiamo andando a colpire la parte del carbon footprint cioè dell'impronta ecologica più importante qui abbiamo provato a riassumere un dato statistico e mediamente la parte legata agli imballaggi in plastica è lo 0,5% di quello che è il carbon footprint di un cittadino europeo di un italiano perché aggrediamo lo 0,5% e non andiamo a guardare il 99,5% forse su questo dovremmo aprire anche qui un dibattito se stiamo veramente cercando la soluzione migliore ancora altri numeri importanti giusto per condividerli questi sono frutto di uno studio fatto insieme a Dispra e ovviamente sono delle stime quindi come tutte le stime hanno dei limiti però grosso modo quello che si stima oggi in Italia è la produzione di circa 4,5 milioni di tonnellate di rifiuti di materie plastiche circa 2 milioni vengono riciclate 1 milione in Italia più o meno 900 mila all'estero come si fa ad ottenere dei risultati migliori i risultati migliori si possono ottenere per ridurre sia la discarica ovviamente che la termovalorizzazione implementando nuove tecnologie facendo innovazioni introducendo nuove metodologie anche nell'ambito del riciclo non basta più parlare di recupero di materie che è quello che tutti conosciamo come riciclo dobbiamo cominciare a parlare anche di recupero di materie prime quindi di andare a lavorare su quello che volgarmente viene chiamato riciclo chimico che sarà la soluzione del problema tra 5 anni ci saremo dimenticati probabilmente del problema delle plastiche perché le aziende stanno già lavorando da almeno 3 o 4 anni nel trovare nuove alternative al riciclo meccanico quando il riciclo meccanico non è sostenibile e qui entra in gioco un po' anche il nostro ruolo di consorcio facciamo parte del CONAI come sapete questi sono i vari consorsi di filiera qui molto velocemente vi ho rassunto anche alcuni dati vado veloce perché poi ripeto la slide è disponibile però quello che deve rimanere importante come concetto anche qui noi distribuiamo come consorzio 350 milioni di euro ai comuni italiani sotto forma di contributo secondo l'accordo quadro ANCI-CONAI i comuni hanno tutto l'interesse a fare la raccolta differenziata anche della plastica monouso soprattutto della plastica monouso e ovviamente degli imballaggi che sono quelli che interessano che interessano noi e su cui si fa la raccolta differenziata perché sottolineo questo aspetto perché alcune volte arrivano degli messaggi attraverso anche colleghi di confida eccetera che ci sono dei comuni che si rifiutano di ritirarli perché non sono puliti bene la parola pulito si può intendere in tanti modi noi non intendiamo pulito con lavato ma intendiamo pulito con svuotato cioè ovviamente il piatto con la melanzana vorremmo evitarlo il vasetto di yogurt pieno di mezzo chilo di yogurt vorremmo evitarlo per due motivi uno perché paghiamo yogurt invece che plastica e il secondo perché potete immaginare dopo tre settimane quello yogurt che cosa è diventato quindi è ovvio che chiediamo ai comuni e quindi al consumatore al cittadino di darci un prodotto pulito cioè svuotato non è necessario lavarlo nessuno ha mai chiesto di lavarlo se lo dobbiamo lavare lo laveremo noi nei nostri impianti di recupero e di riciclo la raccolta differenziata in Italia è cresciuta continua a crescere siamo una delle attività che cresce con due cifre nel 2018 siamo arrivati a 1.200.000 tonnellate nel 2019 siamo probabilmente a 1.400.000 tonnellate quindi è una storia di successo quella della raccolta differenziata in Italia di cui tutti dovremmo essere a conoscenza ed orgogliosi perché siamo tra i migliori in Europa di questo nessuno probabilmente ancora ce n'è da merito probabilmente succederà nei prossimi anni e il prodotto più riciclato di tutti è proprio il famigerato P&T delle bottiglie di plastica che oggi è uno degli argomenti principalmente in discussione però mi preme lasciarvi anche un altro concetto importante che è quello di cui parlano tutti ma probabilmente non tutti sanno esattamente che cosa si intende con riciclabilità e vado veloce a chiudere i prodotti polimeri con cui vengono fatti gli imballaggi sono sostanzialmente tutti riciclabili hanno il 99% sono materiali termoplastici perfettamente riciclabili ma la riciclabilità non si deve applicare al polimoro si deve applicare al prodotto e il prodotto può essere riciclabile solo se queste quattro condizioni che vedete scritte sulla slide sono tutte soddisfatte lo dobbiamo raccogliere perché se non lo raccolgo lo perdo deve entrare in un flusso di selezione quindi devo essere in grado di separare le varie plastiche devo avere ovviamente un riciclatore in grado di trattarlo e devo avere un mercato se queste quattro condizioni non sono soddisfatte il vostro prodotto non è riciclabile nel senso vero del termine quindi anche quando parliamo di riciclabilità è importante che ci capiamo non è il materiale che deve essere riciclabile non è la plastica che deve essere riciclabile deve essere l'imballaggio a essere riciclabile e qui apriamo poi un discorso che probabilmente ci porterebbe molto lontano tanto è vero che se prendiamo la bottiglia di P&T non la chiamiamo le bottiglie di P&T ma dentro ci sono almeno altri 10 prodotti o 10 altre cose c'è l'etichetta c'è il tap c'è l'inchiostro della punzonatura della scadenza ci sono altri trattamenti che vengono fatti per migliorarne magari la resistenza all'invecchiamento gli antiossidanti eccetera la bottiglia non è P&T la bottiglia è un imballaggio ed è lui che deve essere o lei che deve essere riciclabile l'ultimo mito da sfatare è quello che poi della plastica facciamo sostanzialmente un gran calderone non si ricicla niente non è vero come dicevo prima in Italia siamo ormai arrivati a oltre un milione di tonnellate solo della plastica da imballaggio ci sono tantissimi settori che ormai utilizzano plastica riciclata ma ricordatevi che è difficile stimare quanta plastica riciclata c'è in un prodotto quindi anche quando si chiede al governo bene i prodotti con plastica riciclata detassiamoli attenzione non ci sono ad oggi sistemi che ci garantiscano di poter misurare quanta plastica riciclata c'è in un prodotto quindi attenzione anche poi a portare avanti delle istanze difficilmente poi sostenibili bene questo è l'ultimo l'ultima slide l'Italia sta già facendo molto di più degli altri paesi europei perché nel 2018 l'Italia attraverso il contributo ambientale con AI ha introdotto la diversificazione tra i prodotti cioè gli imballaggi che sono riciclabili sono tassati tra virgolette meno di quelli che non lo sono perché ovviamente l'obiettivo non è quello di tassare ma è quello di provocare le industrie di provocare l'innovazione e la ricerca di spingerli a soluzioni che siano sempre di più sostenibili anche da un punto di vista ambientale e il contributo ambientale diversificato è la risposta giusta a ottenere per cercare di ottenere questo tipo di risultati bene io ho finito sono saltati i link non so perché però ve li farò avere grazie 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 molto Claudio Pirotti da parte del mondo diciamo plastiche e materiali Eni Versalis grazie buongiorno e grazie dell'invito io lavoro per Versalis Versalis è l'azienda chimica dell'Eni leader come azienda chimica in Italia e uno dei leader in ambito europeo mi farò aiutare da questa breve presentazione sarò tre slide breve e dense di significato noi siamo un'azienda chimica e già da un po' di anni consideriamo la circolarità più di qua consideriamo la circolarità come un elemento fondamentale per la nostra crescita quindi un driver strategico su cui impostare il nostro lavoro la nostra ricrescita la nostra ricerca e i nostri prossimi investimenti questo driver si sviluppa su tre pilastri principali l'ecodesign un riciclo il riciclo dei polimeri e la diversificazione del feedstock l'ecodesign significa per noi è l'unione della filiera nella consapevolezza che ogni stadio come diceva l'ingegnere Protopapa ogni stadio ad esempio il design di un prodotto ha impatti e riverberi sugli stati successivi ad esempio sul riciclo sul riciclo dei materiali stiamo sviluppando stiamo lavorando studiando immaginando e mettendo in piedi investimenti per il riciclo dei materiali polimerici con varie tecnologie ce ne sono ce ne sono più di una prima si parlava del riciclo chimico c'è il riciclo meccanico il riciclo meccanico avanzato e così via le stiamo studiando tutte e adesso vedremo già i primi risultati in ultimo la diversificazione del feedstock il feedstock tradizionale è quello da fossile sono anni che stiamo lavorando e diversificando il feedstock per trovare un ottimo in termini di feedstock esistente un feedstock bio o sostenibile e un feedstock da materiale riciclato quest'anno abbiamo presentato una nuova gamma di prodotti su due linee polimeriche il polistirolo che rappresento e il polietilene quindi una nuova gamma di prodotti che hanno in seno un tenore di materia prima seconda di materiale riciclato che viene dalla raccolta da postulso domestico sul polietilene e quello che vedete sulla vostra sinistra sono una gamma di prodotti che contengono fino al 75% di materiale prima seconda per applicazioni che vanno soprattutto nell'ambito quindi LDPE e HDPE che vanno nel film e nel settore agricolo sono nell'ambito del polistirolo sulla vostra sinistra e nell'ambito dell'EPS quindi polistirolo espandibile e qual è l'applicazione l'applicazione sono elastre per isolamento per isolamento termico delle nostre case entrambi questi prodotti sono stati sono disponibili e sono stati presentati sul mercato l'ultimo quello dell'EPS per isolamento da pochissimo tempo proprio il mese scorso prima abbiamo parlato quindi di sviluppo di ricerca di investimenti c'è un terzo punto che è importante è quello dello sviluppo e della promozione delle filiere dedicate cioè quindi di tanti piccoli progetti che insieme possono dare e danno un contributo importante il rivending il progetto rivending è uno di questi noi abbiamo noi come Versalis e come Eni abbiamo sposato con entusiasmo questo progetto e l'abbiamo è un progetto pilota avviato ad ottobre quindi siamo giovani su questo mondo abbiamo due mesi e abbiamo abbracciato l'idea di questa filiera corta e tutelata corta e tutelata perché permette di ottenere dei processi di purificazione di riciclo più semplici di un processo normale di riciclo e ottenere dei prodotti finali di alto raggiunto con altra qualità i risultati che abbiamo avuto sono sia in termini di feedback a partire dai feedback che dai nostri dei miei colleghi dai miei colleghi sono molto importanti e credo che la cosa più importante sia un percorso di responsabilizzazione cioè essere sicuri che il gesto semplice ma il gesto che si fa di prendere il bicchiere di pulirlo e di metterlo nel posto giusto ha un valore e il valore si misura nell'andare ad individuare il prodotto poi finale che si farà e in quest'ottica c'è la sinergia che noi come Versalis abbiamo avuto sul progetto rivending noi utilizzeremo la materia prima seconda originata dal progetto rivending come un co-feedstock come un ulteriore feedstock per i nostri prodotti EPS per isolamento insieme a quelli che normalmente ci dà prendiamo da Corepla quindi insieme al piatto di plastica che verrà bandito vasetto di yogurt e tutti i vari prodotti in packaging in polistirolo aggiungeremo con piacere perché sarà molto puro anche quello del rivending grazie grazie allora grazie intanto a tutti adesso ci fermiamo per un momento siamo stati anche leggermente più veloci del previsto si riprende qui alle 14.45 per concentrarci sul vending 4.0 a più tardi grazie a tutti 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 grazie a tutti